rimuovere quello che c'era stato, come a dire, è stata una cosa accettata da tutti il dolore, ecco perché nei nostri libri di testo noi troviamo spesso quelli scolastici in manuale il re se ne fuggì a Gaeta, arrivò a Ben Paoli e così Napoli e Mezzogiorno Italia diventato italiano questa è l'operazione di abile trasformazione della storia il re fu indotto e fu necessariamente dovetto lasciare la capitale lui disse per evitare sangue e lutti alla capitale e per tutelare i monumenti che ci sono nella città e andò a Gaeta perché in quel momento strategicamente era loro più adatto ad organizzare una difesa militare possibile tra i fiumi d'Otturro e Galileano e tra due fortezze fortissime, Capo e Gaeta solo lì, su quel fronte, era possibile organizzarsi e infatti poi, subito dopo la battaglia del Volturno che lasciò le cose inalterate come posizioni dopo alcune vittorie fatte dall'esercito portorio come a Cagliasso, Fonte Latone, Santagio e altri luoghi del Casertano in quel momento il Garibaldi erano messi molto male e lo stissi anche Ciardini, la famosa rete a Garibaldi e senza lo sconfinamento dell'esercito di Montese regolare le cose forse sarebbero andate molto universali sconfinamento e attenzione, altra operazione della storia i plebisciti legittimano con una volontà popolare di soffrire l'universale la missione del mezzogiorno dei Cagliasso il prebiscito, o annato di Gesù, fu fatto il 21 ottobre 1860 legittimare qualche cosa per volontà si deve chiamare qualcuno prima che faccia qualche cosa dire io voglio che tu faccia questo lo sconfinamento dell'esercito regolare di Montese avvenne il 12 ottobre 1860 nove giorni prima di questo richiamo legittimante giuridico formale in quei nove giorni ci fu soltanto uno sconfinamento e un avanzato tra l'altro no, ci fu una battaglia, un abuso la prima tra due eserciti regolari che quello delle due sistemi difendeva il proprio territorio il proprio stato riconosciuto in quel momento da tutte il consesso da tutte le diplomazie internazionali e un altro esercito regolare che era lupo formalmente perché non è stato dichiarato un conflitto ancora c'erano accreditare le rispettive diplomazie persone che abitano al macello nell'Abruzzo c'erano una prima dopo quell'episodio ancora un'altra cosa Cialdini pubblicò un bando in cui disse faccio fucilare tutti i paesani armati che tornerò sul mio cammino cioè tutti i civili che difendevano quella che consideravano in quel momento il proprio territorio, il proprio focolare la propria famiglia, la propria rata se si difendevano rispetto a questa che potrebbe essere considerata da questa gente un'inversione sarebbero stati fucilati e questo è il comportamento di un da solo un certo giugno che viene a liberare qualcuno da uno straniero e il problema quando il mezzogiorno in Italia cominciò ad essere in fiamme era il faroeste dell'Italia c'erano dappertutto anche all'estero in Francia e in Inghilterra si chiedevano ma che sta succedendo quanti morti nel sud ma forse c'è qualcosa di altro se lo fosse in una famosa lettera al suo netto Matteucci Carlo Dazzetti che scrisse e disse ma fin quando noi spariamo contro gli austriaci e va bene ma quando noi siamo costretti a cagnonaggiare e a sparare contro altri italiani del sud Italia allora c'è qualche problema e allora dobbiamo chiederci veramente se è giusto tenere con noi gente che con noi non ci possiamo e questa era la fine del 1861 già si chiedeva da Zeglio come mai cosa stava succedendo in questo faroeste dell'Italia e in questo faroeste dell'Italia è capitata che anche la nostra classe dirigente del sud ha cominciato ad avere grossissime responsabilità sulla frettolosità con cui fu unificata questa parte dell'Italia al resto i grossi latifonisti del Mezzogiorno che tenevano che quella rivolta contadina potesse trasformare una rivoluzione politica in rivoluzione sociale cominciavano loro a bussare il calore a Torino mandateci più per noi mandateci più eserci affrettate l'unificazione passano le copotenenze perché altrimenti qua la situazione si trugge di mano noi possiamo perdere potere soldi rapporti di forza con questi confronti arrivarono più truppe arrivarono le spinte repressive e il latifonismo che tanta parte e tanta responsabilità ha avuto in quel modo di unificare l'Italia senza come senso in generale senza l'apparizione popolare ha avuto le sue colpe e la sua responsabilità perché vedete poi io non sono autoassolutore totalmente sulle responsabilità che ha avuto soprattutto la classe dirigente del sud in quel processo unitare e questo bisogna dire il primo ho citato bruttamente Ungaro e Jacopelli perché sono due emblemi di questo trasformismo e di questo modo con cui anche qui la classe dirigente che poi è diventata quella liberaria continua a votare Ungaro eccetera eccetera è diventata italiana e nel 1861 già c'è forse lo sapete una relazione di Radazzi che prevede la generale giornalista cioè il decentramento dell'Italia alle regioni ma quando si lesero conto che qua in questa parte d'Italia c'era un inferno era tutto in fiamme ripeglioni cannoni c'era necessità di mandare tutto e mandavano ovviamente a mare il progetto e l'unica soluzione praticabile fu affettare l'accentramento e l'unificazione alla Francese ed ecco perché poi fu fatta quella scelta perché le centrali nel mezzogiorno non controllate con un governo centrale quello che avveniva qua avrebbe significato perdere questa parte d'Italia al resto ecco questa è la spiegazione di come il mezzogiorno poi così affrettatamente diventato italiano in una rivoluzione che abbiamo voglia di ma fu una grande operazione del secondo i capoli degli studiati solo il 2% degli italiani di allora che erano 21 milioni all'interno territorio della penisola contribuirono a fare il risorgimento e Benedetto Croce che certamente uno che non si vuol dire fosse di simpatie borboniche o nostalgico delle due sicili scrisse e sostegne in una conferenza famosa poi ripubblicata in nomine costa e la vecchia che l'avanzata che è in balbina fu una nel mezzogiorno l'Italia fu una rivoluzione passiva alla maniera del fuoco perché in sostanza le popolazioni dei milionari rimasero in attesa a vedere come andavano a finire le cose rischerassi da lui o da l'altra l'altra Benedetto Croce non certo il giacinto di sì e quindi questo dice benissimo uno dei vizi di origine a cui accenitava appunto il sindaco dai comuni quando parlava che è necessario conoscere la nostra agenza del risorgimento italiano operazione e l'Italia priva di grande con senso popolare con senso di grandissima estranità delle popolazioni popolari a quello che stava avvenendo senso di estranità allo Stato che ci siamo trascinati un'altra levità che ci trasciniamo in questa parte dell'Italia allora chiederci da dove vengono certe levità è possibile soltanto se andiamo all'origine e a conoscere attraverso i documenti che forza è avvenuto in questa parte Gaeta Gaeta io mi ha affascinato molto raccontare la vicenda quotidiana di quell'assedio dal campo degli assedianti e nel campo degli assedianti e vedete nel documento inediti del ministero della guerra io ho trovato una cosa molto dolorosa perché appunto si è trattato di un'inizione di guerra di guerra alla fine dell'assedio due anni dopo nel documento del ministero della guerra si legge è stata conquistata finalmente alla buona causa dell'esercito italiano la potenza dei cannoni cavalli che erano i cannoni a lunga agitata quindi riuscivano la grande arma viciniana di quel pericolo conquistata attraverso una felice sperimentazione e utilizzo all'assedio di lei cioè l'esercito di Montesi sperimentò contro altri italiani la vicinale potenza dei cannoni cavalli e quindi questa è una cosa è terribile e si vede soltanto a una fortuita combinazione coincidenza se non fu sperimentata la bomba topica dell'epoca avevano preparato quello che veniva chiamato il brullotto minatore cioè una grande nave un bottiglio di esplosivo che sarebbe dovuta essere stata lanciata contro il porto di Greca e sarebbe esplosa distruggendo veramente completamente la città e facendo molti più morti di quanti ce ne sono